Quando ho iniziato questa serie ero strassicuro che non vi avrei mai parlato di questa cosa non perché non ve ne volessi parlare ma semplicemente perché è qualcosa che mi ha mi sono portato molto dentro per parecchio tempo e mi ha abbastanza consumato è una cosa che mi ha fatto soffrire veramente tanto però forse è questo il bello di YouTube oggi siamo qui sulla mia serie dove in pratica voi come al solito mi scrivete sotto nei commenti le vostre domande e io in base alle vostre domande cerco di parlare della mia vita in maniera tale da farmi conoscere un po' meglio e in questo modo ci relazioniamo un pochettino meglio tra l'altro voi mi conoscete meglio e io naturalmente conosco meglio anche voi sono contento che la serie sta discutendo parecchio successo molti di voi mi scrivono anche che mi conoscono proprio attraverso questa serie personalmente non l'avrei mai pensato all'inizio non molti si accorgevano di questa cosa poi man mano col tempo capitava che qualcuno se ne accorgesse invece ultimamente ho visto che quali persone mi avete scritto questo tipo di commento quale in particolare il fatto che io ripeta più volte ripetutamente la parola naturalmente magari in questo video non capiterà o capiterà molto di meno forse perché magari cercherò di prestare per attenzione però vi posso assicurare che quando sono tra virgolette diciamo rilassato mi capita spesso di dire questa parola per quale motivo ma partiamo naturalmente con le domande che sono tre naturalmente parlano sempre della stessa cosa in che senso parliamo di l'indasettantacinque ciao magrus ti seguo da qualche anno adoro le tue serie sei uno dei pochi youtuber che ne fa ancora seguo molto la tua serie la mia serie e vorrei un tuo parere mi prendono in giro perché sono un po' balbuziente ora sto migliorando che degli aiuti che degli aiuti ma è difficile ok mentre invece Firner Firner penso perché l'accento sia sulla i ho recuperato tutta la serie adesso mentre sto patinando Spyro per la PS4 ottima scelta non ho potuto fare a meno di notare che dici di frequente se non sempre naturalmente come è nata questo intercalare mentre invece Andrew Birniarski Andrew Birniarski attore di The Program se non sbaglio il film ma lo fai apposta dire sempre naturalmente non è un'offesa allora partiamo da questo concetto non lo faccio assolutamente apposta è qualcosa che mi porto dietro da parecchi anni da quando ero praticamente abbastanza piccolo è normale che non dicevo naturalmente quando ero già piccolo diciamo che il naturalmente è il frutto di un grosso lavoro che ho fatto poi negli anni in che senso? partiamo dalle origini all'inizio non avevo nessun tipo di problema a livello lessico mentre parlavo poi mi raccontavo il problema che ho avuto con il mio padre negli anni perché le persone che mi hanno seguito hanno attribuito questo mio problema allo stress dovuto alla famiglia cambio di città operazione di mio padre quindi lo sapete benissimo ve l'ho già parlato in altri video successe che in pratica quando iniziamo a cambiare città e tornammo cioè tornammo scendemmo poi a Napoli i miei genitori si accorse perché in pratica quando parlavo ero un po' balbuziente in che senso? avevo questa espressione cercavo di parlare era come se le parole non mi uscissero cioè in pratica se dovevo dire Andrea il mio nome facevo Andrea ci mettevo un po' di tempo all'inizio la cosa non fu presa molto sul serio per il semplice fatto che si pensava che fosse un problema normale che potesse capitale e già vi posso assicurare che alla mia età in teoria penso che avessi 5-6 anni no 5-6 anni forse più o meno una roba del genere già mi prendevano in giro a scuola normale che non tutti ti prendono in giro ci sono anche chi ti difende io non ero uno di quelli che si chiudeva dentro ero uno di quelle persone che personalmente non so se è giusto o sbagliato poi dipende dal dal tuo tipo di carattere ero uno che attaccava nel senso se qualcuno mi prendeva in giro io attaccavo ci davo dentro magari a volte non uscivo bene altre volte non uscivo male tipo per esempio sono stato anche sospeso da una scuola perché è sempre il solito fatto magari se vieni preso in giro e tu colpisci poi alla fine è sbagliato colpire però magari non si sa tutta la verità fortunatamente i miei genitori da quel punto di vista mi hanno sempre difeso comunque la cosa fu presa un pochettino sotto gamma però poi si accorsero che a mano che andava avanti la situazione peggiorò fino a che arrivato a un certo punto io la situazione della balbuzza rimase rimase stabile quasi tendente a migliorare però incominciava a fare anche dei tic un tic che poi magari forse può sembrare anche banale potrebbe anche far ridere però vi posso assicurare magari ecco se lo vedessi in questo momento potrei anche ridere però mi rendo conto che rapportato a quel periodo in quell'età è qualcosa che ti segna perché molta gente è ignorante la prima cosa che guarda è il fatto che tu è come se non fossi normale io facevo sempre così sempre non è che facevo sempre così però diciamo che in 5 minuti o magari sotto stress capitava di frequente e da lì i miei genitori iniziarono un pochettino a preoccuparsi perché si dessero conto che lo fai una volta lo fai due lo fai tre lo fai ripetutamente prima venivo rimproverato perché fai questa cosa io dicevo mi viene spontanea a quel punto poi inizia ad andare in cura fu eseguito da molte persone naturalmente è inutile che ve lo dico quando i tic aumentarono non ve li faccio vedere perché personalmente anche per chi ha questo tipo di problema è qualcosa di abbastanza grave soprattutto se attuale io ve lo dico sempre io che sono naturalmente sicuramente molto più grande di voi il bullismo diciamo che potrebbe aver subito un ragazzo della mia età non è quello che subite voi è completamente diverso diciamo che voi siete più sfortunati per il semplice fatto che all'epoca mia i social come vi dico sempre non esistevano per cui se ti prendevano in giro in classe restava circoscritto in quell'ambiente magari se eri proprio sfortunato sfortunato ti prendevano in giro nella scuola mentre invece col fatto dei social sei alla merce praticamente di tutti ti guarda il mondo intero e quindi è molto più esasperante anche perché in questo periodo l'aspetto fisico conta veramente tantissimo per cui se hai dei tic come li avevo io all'epoca adesso è più difficile però se ne può uscire fuori ecco il problema qual è è che magari non so se ho detto qualche volta naturalmente scrivetelo sotto nei commenti perché magari a volte io poi non me ne accorgo se ne c'è riuscite a uscirne fuori ecco vedete per esempio a volte io ho delle difficoltà non potete immaginare poi all'università che cosa è stata perché fortunatamente sono stato aiutato e quindi sono riuscito a risolvere alcune cose è normale che in situazioni molto estreme tendo a è come se la lingua si intracciasse quindi le parole è come se non uscissero anche se devo essere sincero questo tipo di lavoro registrando su youtube mi ha comunque aiutato tantissimo perché più parlate più cercate di relazionarvi con le persone e più riuscite a risolvere però quello che vi dico sempre fatevi aiutare dalla famiglia soprattutto perché la famiglia è fondamentale e soprattutto da persone esperte sono riuscito diciamo quindi a risolvere questa situazione perché è normale che i tic e magari i movimenti così come adesso non li faccio più capitano veramente molto molto raramente che sono veramente molto 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 sotto stress però è normale che qualcosa doveva rimanere purtroppo questo penso che sia il male minore perché quando andai l'ultima volta a visita e mi capitava che mi diceva questa cosa questa ragazza che mi seguiva mi disse il male minore riesce almeno adesso a non avere più delle espressioni strane perché io muovevo l'occhio in maniera strana anche questa parte qua la muovevo in maniera strana era una cosa nervosa assolutamente col tempo sono riuscito quindi a togliere questa cosa e a parlare a utilizzare diciamo in particolare è come se come il fumatore il fumatore che dice guarda ti togli il vizio del fumo però mastichi la gomma meglio che mastichi la gomma che continui a fumare perché fa male visto che non riesci completamente a risolvere completamente la situazione il male minore è quello di mangiare la gomma o magari attaccarsi a qualche altra cosa è quello che è capitato praticamente a me dire parecchie volte la parola magari naturalmente mi aiuta a trovare il tempo magari a venire fuori da una situazione di di imbarazzo o di non vi saprei dire diciamo il termine giusto perché non sono esperto in questo settore dal punto di vista della medicina è soltanto qualcosa che ho vissuto perché ve ne ho parlato poi alla fine perché fondamentalmente spero che sia legata anche alla fine del video perché è importante capire questa cosa perché molte persone pensano che youtube sia soltanto un male e non è vero perché magari riesce a tirare anche magari il meglio di una persona e è il motivo per cui io ve ne ho parlato in che senso come già avevo detto all'inizio era qualcosa per cui non vi avrei mai non vi avrei mai interpellato non vi avrei mai raccontato questa cosa però mia moglie che comunque mi conosce bene scegliete bene la donna accanto perché è importante lei sapeva o pensava dentro di sé che io comunque ne volessi parlare e lei mi ha detto parlane perché può aiutare te ma soprattutto può aiutare delle persone che hanno vissuto o stanno vivendo la stessa situazione come una ragazza per esempio che mi ha iscritto e magari li può aiutare e magari loro ne possono uscire in maniera molto più forte spero di aver risposto naturalmente alle vostre domande mi scrivete sempre tante domande lo sapete benissimo che non è una serie che capita spesso cioè un video a settimana cerco di raggruppare un po' di domande e di rispondere però state tranquilli io mi segno tutto ho tutto qua sopra tutto segnato qua sopra quindi non vi preoccupate non vi dimentico man mano piano piano vi recupero sempre tutti quanti ci vediamo sempre al prossimo video vai